Giovanni Di Noia, due gol, un assist, tanta corsa, qualche cross, un primo tempo da incorniciare. Sì, oggi è stata una grande giornata per me, soprattutto è arrivata la vittoria che aspettavamo da tanto tempo e poi con il fatto che ho segnato due leti, diciamo che è stata la giornata perfetta. Una curiosità Giovanni, a un certo punto, credo al secondo gol, hai alzato la maglia e hai fatto vedere un tatuaggio verso la telecamera, giusto? Sì, perché è un tatuaggio dedicato alla mia famiglia e diciamo che questi due gol li dedico a loro perché mi sono sempre stati vicini nei momenti belli ma soprattutto nei momenti bui, quindi questi due gol li dedico a loro. Un'altra cosa, il mister dice che ti ha strigliato in settimana, che cosa gli ha detto se lo puoi dire? No, no, il mister diciamo che ci tiene sempre sull'attenti, tutti quanti, quindi noi cerchiamo di apprendere tutto ciò che ci dice e poi di trasportarlo in campo. Ecco, un problema muscolare ti ha fermato dopo un avvio di campionato in cui eri stato sempre titolare, no? 5 su 5, la panchina latina, poi ti sei bloccato, sei stato fuori 25 giorni. Il rientro nel finale col Cesena, buono, malgrado la beffa nel finale, un buon primo tempo ad Avellino, poi ti sei reso ai crampi e oggi una prestazione esaltante. Insomma, un di noi ritrovato è in crescita verticale. Sì, sto cercando di ritornare al meglio della condizione, anche perché comunque sono stato tre settimane fermo e diciamo che ho passato un brutto periodo. Adesso per fortuna ho recuperato, sto cercando di recuperare la forma migliore grazie anche all'aiuto dello staff e quindi speriamo che magari già dalle prossime partite riesco a concluderle. È la tua prima doppietta oppure già hai segnato in altre circostanze, in altre maglie, con altre squadre? No, sinceramente quelli che ho realizzato oggi sono i primi gol in B, quindi sono molto contento. Poi è arrivata una doppietta che magari non ci speravo. Al di là dei gol, anche l'assist per Avenatti in occasione del gol del 2-1 è davvero un bel gesto tecnico. Sì, ho visto che la loro difesa stava salendo e Felipe stava tagliando e quindi ho preferito mandarlo in porta. Poi per fortuna gliel'ho messa precisa, quindi lui davanti al portiere non ha potuto sbagliare. Ecco, Di Noia può giocare quarto di sinistra in difesa, può fare la mezzala sinistra nella mediana 3. un giocatore polivalente che si propone per due ruoli, ma tu preferisci l'una o l'altra posizione o per te non ci sono preferenze particolari? No, il mio ruolo è la mezzala sinistra, però se il mister ha bisogno di farmi giocare quarto di difesa, per me non c'è problema. L'importante è giocare, giocherai dappertutto, quindi anche magari in una zona che non è di mia competenza io giocherai sempre. Sei uno dei nuovi, no? De Rosso Verdi, non ti sei mai così presentato, no? Davanti per quanto riguarda una conferenza, così non c'è mai stata occasione. Come ti trovi però a Terni, sia da un punto di vista, insomma, con staff, tifosi e anche ambiente? No, sinceramente sono contento di essere venuto qui, anche perché mi sono ambientato subito e diciamo che la gente qui mi ha accolto anche abbastanza bene. Con i compagni sin da subito ho avuto un ottimo rapporto e diciamo siamo quasi sempre tutti insieme, quindi diciamo che c'è un bel gruppo e quindi dobbiamo solo cercare di migliorarlo. Ecco, te sei in prestito dal Bari, giusto? Prestito con diritto di riscatto. Quindi per il prossimo anno l'eventuale riconferma a Terni, come a ottobre, parliamo ottobre, come la giudicheresti? No, per me non ci sono problemi. A me piace giocare a calcio, è il mio lavoro, quindi è normale che magari se non ci dovesse essere riscatto e tornerei a giocare a Bari, giocherai nella mia città, è normale che mi farebbe magari più piacere. Però qui mi sto trovando bene, quindi per me non c'è assolutamente problemi se la Ternana mi riscattasse. Ecco, a proposito dei tifosi, oggi in numero ridotto, però incomiabili, davvero incomiabili per l'appoggio che vi hanno garantito anche sullo 0-1. Sì, diciamo che la partita si è messa subito male, quindi loro potevano mettersi contro di noi, però ci hanno continuato a sostenere, per poi per tutta la partita si è notata la differenza perché loro ci hanno dato una grossa mano. Potrebbe essere, e usiamo il condizionale ovviamente, perché poi soprattutto in B ogni partita fa storia a sé e tutto può accadere di volta in volta, ma potrebbe essere l'inizio della svolta, perché questa squadra si è ritrovata prima del fisco d'inizio di oggi, all'ultimo posto in classifica, che come dice Carbone, è sicuramente una posizione che non compete a questo organico. Io non penso che possa essere la partita della svolta, anche perché noi comunque, magari togliendo il primo tempo di Avellino, dove non abbiamo fatto particolarmente bene, abbiamo sempre cercato di fare il nostro calcio e quindi non abbiamo demeritato. Purtroppo ci sono state situazioni che ci hanno penalizzato e quindi oggi abbiamo recuperato un po' quello che avevamo perso in precedenza. Speriamo che, diciamo, la buona sorte ogni tanto ci aiuti di più e quindi noi cercheremo di metterci sempre il nostro in campo e speriamo di ripetere la stessa prestazione con il Benevento. A proposito, adesso avete due giorni di riposo, ripresa della preparazione martedì nel primo pomeriggio, quindi ricaricate le batterie, vi godete questa vittoria. In ottica Benevento, si gioca di lunedì nel postifico serale, sul piano psicologico quanta benzina vi regala questa vittoria odierna? Sicuramente ci dà più gioia nella fronte degli allenamenti, anche perché il clima era diventato abbastanza pesante in questi giorni, quindi di sicuro ci sarà più serenità negli allenamenti e il morale sarà più alto. Questo ci potrà solo aiutare nel preparare al meglio la partita col Benevento. Il Benevento ci promette un'altra doppietta? Io spero di sì, però non mi posso garantire niente. Congratulazioni. Grazie. Non te ne vuoi. Ah... Non te ne vuoi.